C'è una riunione d'emergenza questo weekend Ho promesso a mia moglie e mia figlia che sarei stato con loro, signore Dovremmo tagliare il 20% Aveva promesso a queste persone buoni posti Non faresti qualsiasi cosa per la compagnia Divertitevi Cosa fare, cosa fare, cosa fare Cosa fare davvero Poo Christopher Robin Ho rovinato tutto Oh, non vedo nessuna rovina Un po' di rughe forse